La gente di lago si muove in barca, si muove in battello. Un gioiello della navigazione Lago Maggiore è il piroscafo Piemonte del 1904. Oggi naturalmente ci sono anche mezzi più moderni, ma il Piemonte viene tuttora utilizzato. E il Piemonte sarà un grande protagonista domenica e lunedì di gente di lago. La navigazione Lago Maggiore crede che il Lago Maggiore abbia delle potenzialità enormi. E l'iniziativa della gente di lago è quella di recuperare tutte quelle potenzialità che ci sono state in passato e che si sono perse, vuoi per la modernità, vuoi perché il mondo sta cambiando. Noi vogliamo ribadire il fatto che il lago è un sistema con la montagna, con l'introterra del Piemonte, è un sistema che può dare opportunità e lavoro a tutti. La navigazione Lago Maggi, con i suoi 35 battelli, dà lavoro a circa 250 famiglie, ma la speranza è sempre quella di fare di meglio e di più. Crediamo a tal punto che ci stiamo impegnando anche in nuove costruzioni, nuove navi, che andranno a fiancare questo gioiello che sarà presente e visitabile a Isola Pescatori la giornata di domenica, la giornata di lunedì. Perché? Perché parliamo tanto di ecologia, questa è veramente la nave ecologica. Va a vapore, consuma relativamente poco, pochissime emissioni, pochissimo rumore. Quando naviga non si sente alcun rumore, si sente solamente lo sciacquio delle pale. Naturalmente la navigazione curerà anche i trasporti di tutti gli ospiti che raggiungeranno l'Isola Pescatori. Beh sì, la navigazione si è impegnata, a fronte dei numeri ipotizzati dall'associazione Gente di Lago e di Fiume, si è impegnata a garantire tutti i trasporti delle persone da stresa all'Isola Pescatori. Due battelli dedicati domenica mattina per l'andata all'isola alle 10.30 e alle 11 per non congestionare troppo le corse di linea che potranno comunque essere usate dal pubblico di Gente di Lago. Corse di linea che saranno il riferimento per il ritorno. Ricordiamo che la manifestazione propone domenica una giornata per tutta la famiglia con una degustazione no gastronomica in 12 postazioni, con una trentina di chef, dimostrazioni con i pescatori, mostre, spettacoli, laboratori per grandi e bambini. Lunedì giornata scientifica con incontri di battiti risottata en plein air, a pranzo e cena di gala. Il programma completo su www.lagentedilago.com, sito di riferimento anche per l'acquisto dei biglietti che valgono per l'intera due giorni.